con il lancio profondo colpo di testa ma non definitivo e soluzione al volo che va a sfidare e a saltare in duello l'avversario per il colpo di testa sul Premier League quest'anno altro lancio profondo per l'ennesimo inserimento alla raccolta però c'è l'Alcabi palla larga ma terza occasione per il Marocco in otto minuti cioè mastica la conclusione palla che resta lì e poi in doppio tentativo l'ultimo di Benatia non sfonda il Marocco tida del Mondiale attenzione al Marocco che attacca con la soluzione con il destino Sardarasmun adesso la strada aperta Sardarasmun, Sardarasmun palla un po' indietro Munir protegge la 0-0 due volte arriva facile Damrabate come in questo caso il cross stavolta è più preciso per il colpo al volo di Arit non semplice No Look per il servizio interno il palleggio con conclusione da fuori e la parata Hakimi, cross anche sporcato, deviazione aerea gran movimento in aria arriva il traversone colpo di testa ed eccolo il gol che manda in vantaggio l'Iran ha segnato Taremi tutti ad esultare Grazie weil вид management Are些